Una competizione internazionale è una ciclovia che vedrà misurarsi atleti e esploratori su due percorsi. È la Norman Douglas Ultra Trial che si svolgerà il 21 luglio con partenza da Camigliatello Silano. Una gara ciclistica che prevede due circuiti differenti che ripercorrono il cammino di Douglas. I luoghi attraversati nei primi del Novecento dal celebre autore del romanzo Old Calabria, Vecchia Calabria. Un'iniziativa particolarmente interessante che noi abbiamo seguito, che stiamo seguendo con particolare attenzione e che in qualche modo converge verso delle decisioni regionali che abbiamo assunte già in sede del piano regionale dei trasporti quando abbiamo definito il grande sistema delle piste ciclabili della Calabria che insiste sostanzialmente sui due grandi assi longitudinali. Uno è dato dall'asse dei parchi, su cui noi vogliamo fare appunto una vista con precise caratteristiche trailer e da un'altra parte invece le due longitudinali, la ionica e la tirrenica, che insieme concorrono a costruire la pista della Magna Grecia su cui abbiamo aperto una interlocuzione forte col Ministro, tanto che la pista della Magna Grecia sta già nella finanziaria 2017 e stiamo chiudendo il protocollo d'intesa col Ministro, speriamo di farlo entro l'estate, per la pista della Magna Grecia. Quindi due piste con due caratteristiche differenti, tutte al supporto dell'accessibilità della Calabria, tutte a disposizione. Allora questa iniziativa mi sembra veramente molto importante perché è un'iniziativa che viene dal basso, che viene proprio da quelli che vivono le scelte che si fanno sul territorio, che usano il territorio e che questa iniziativa consente di far vedere che c'è una sintonia forte, mi permetto di dire, tra le scelte e le indicazioni che vengono dalla regione e quello che il territorio chiede o che addirittura i turisti che vengono da altre aree del paese o dall'Europa o da altri stati concordano e chiedono alla Calabria, ci chiedono l'accessibilità e noi dobbiamo essere in grado di darla. Cento anni dopo facciamo rivivere i racconti di Norman Douglas, adattando ovviamente a quello che era la viabilità di una volta con quella moderna, per creare un prodotto turistico che ha un doppio aspetto, sia culturale che sportivo. Noi il 21 luglio lanceremo infatti il progetto di prova di Norman Douglas, in quanto andremo a testare questo percorso che si divide su due gironi, uno di 500 km e l'altro di 1144. Quello di 1144 è un'esperienza bellissima perché va ad unire i parchi nazionali, le riserve naturali e anche il parco regionale delle serre. Quindi 1144 km per vivere la Calabria vera, la Calabria wild, la Calabria che entra nei borghi, entra nelle piccole comunità. Perché Douglas questo fece? Non visse il territorio soltanto come viaggiatore ma anche come esploratore alla ricerca delle culture e in Calabria di cultura ce n'è tanta.